Musica Avevo 8 anni quando può cominciare a Feroci A comprare il secondo giorno dopo la sua scelta Salve a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova Wonderlock Su Pottemolini di Sirona Il nostro amico Creepy Stories Ecco qua Si lo vuoi fare Si ragazzi Si abbiamo vinto Come al solito Da Morbofogna Nova Per iniziare la parte post Lega Darum si blocca Ma basta Incredibile Ha fatto il 4 critical di fila Ascoltami Che cazzo Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio di Pokemon MMO in single player Salve a tutti ragazzi sono sempre i bynet e qui con me oggi c'è Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio di Pokemon MMO in single player Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Pokemon MMO in single player No ho vero No ho vero No ho vero No ho vero No ho vinto In generale No ho vinto iscritti ed eccoci qua ragazzi finito lo speciale spero che vi sia piaciuto e che in qualche modo vi abbia emozionato sappiate che a me ha emozionato anche abbastanza farlo sono andato a riprendere tutti i miei vecchi video e vedere i progressi che ho fatto in quest'anno su youtube più di un anno perché l'altalanno è passato da un pezzo vedere i progressi che ho fatto è stato davvero qualcosa di emozionante e niente io proprio vi propongo una sfida ho intenzione di portare tutti e tre gli speciali che avevo promesso per l'anno su youtube perché veramente in questo periodo mi state dando un supporto che non mi sarei mai aspettato però se questo speciale raggiunge i 40 mi piace attenzione attenzione io il video reaction lo faccio in webcam mi son rovinato lo so e niente comunque vi invito a commentare scrivendomi voglio vedere la tua brutta faccia e noi ci becchiamo in un prossimo video e noi ci becchiamo in un prossimo video e noi ci becchiamo in un prossimo video grazie a tutti